Alla challenge Yamaha TmR700 edizione 2022 I grandi spine spogliano, i primi piloti che si presentano al FIA sono per il numero 611, Yarno Cozzogna quindi Cristiano Lancellotti, molto pregiata della numero 611, mentre per il numero 633 Stefano Bertureffi andrà a condurre questa Yamaha 700 per il parterre dei piloti, sono 3-6-9 di un spin shot 24 partiti per la Cattoria GPX come il quarto appuntamento della campionata attorno motorelli con la terza prova di Rai TT autografato della Sermayon Rally ovviamente si parte al minuto spaccato alle 10.15 abbiamo visto lo start di queste Yamaha TmR700 di queste piccine cruci dove oltre la categoria GPX abbiamo anche la categoria Pro che rimbalita appunto con la tasse G1 che è il campionato al turno motorelli Giacomo Quernari a Andrea Perf...